La Zoria Federica da 8, 10, 8, 8, 10, 8 Grazie Federica La prossima concorrente Martina Porcello, viene dal luogo sano e ha 19 anni Martina Porcello, viene dal luogo sano e ha 19 anni Martina Porcello, viene dal luogo sano e ha 19 anni Votazione per Martina, abbiamo un 8, 9, 8, 7, 9, 9 Grazie La prossima concorrente Alessia Spisso, 14 anni, viene da Montoro La prossima concorrente Per Alessia Per Alessia 9, 9, 9, 6, 7, 7 Grazie Grazie Alessia Intanto arriva la prossima concorrente Lei è Valeria Corella, viene da Avellino e ha 16 anni Facilando alle persone Perpois Votazione per Valeria Facciamo un applauso Facciamo un applauso 6, 6, 7, 7, 7, 7 Grazie a desiderio E la prossima concorrente viene da Atripalda A 18 anni si chiama Valentina Recole E la prossima concorrente viene da Atripalda A 18 anni si chiama Valentina Recole Colazione per Valentina Recole Abbiamo un 7, un 8, 7, 9, 9, 9 Grazie Ultima concorrente Colomba Schiavone 16 anni e viene da San Marzano sul Sarno E la prossima concorrente Sì Votazione per Valentina Colombo Schiavone Scusate Abbiamo un 8 Un 9 9 9 10 E 9 Grazie E così E' terminata la prima passerella Ai signori giurati Come vi sono sembrate queste ragazze? In base ai voti Tutto a posto Ok Prima di proseguire Voglio ringraziare Oltre al Comune di Montoro Inferiore Con qua la presenza del Presidente del Consiglio Il Sindaco Salvatore Gardardù Tutta la giunta comunale L'assessore Alessandro Crimanti Tutti i componenti del palio Perché come sapete Questa manifestazione è stata inserita Nel terzo palio di Montoro Prego qua l'assessore Alessandro Primanti Che se ci vuole raggiungere sul palco Per fare dei ringraziamenti Intanto voglio ringraziare anche Tutta la squadra tecnica Che da oggi pomeriggio alle due Siamo stati qua nel piostro Per montare tutto Questo che vedete Tutti i ragazzi del palio Emanuele, Simone Non so tutti i nomi Adesso non mi vengono in mente Come? Alfredo Vabbè adesso gli facciamo dire a voi Che siete i responsabili del palio Prego assessore Grazie Antonio Buonasera a tutti Questa sera Ti devo fare i miei complimenti In quanto veramente È una grande location Volevo innanzitutto ringraziare Questo magnifico pubblico Perché grazie a loro Se con la loro presenza Che le manifestazioni Vengono fuori sempre alla grande Niente Io stasera Sono oltre a essere in qualità Di assessore del comune Di Montoro Inferiore Qua porto anche i saluti Da parte del sito Salvatore Canutù Perché grazie a lui Grazie alla sua idea Che anche il palio di Montoro È venuto fuori Insieme a tutto questo gruppo Di ragazzi Ma niente Il palio Sta andando abbastanza bene Come ben sapete Sono Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.